Un coprispalle, un bollerino, con dietro scritto qualcosa, lei ha una data? Poi cercheremo di leggerla. Sì. Poi cercheremo di leggerla. Poi cercheremo di leggerla. Poi cercheremo di leggerla. Molto, molto bene, davvero brava. Molto veloce. Sì, velocissima, ha eseguito tutto giusto. Tutto quello che aveva l'ha fatto bene. Abbiamo visto anche alla fine una difficoltà combinata di giro, dove ha fatto un pezzo, una parte con la presa dietro, quindi la gamba presa dietro, e una parte poi in un'altra forma. Aveva preso 31,9, quindi non un punteggio straordinario, eccezionale, un grande punteggio ma non... non eclatante. Non eclatante, 34, punto, infatti. Doveva aver commesso qualche errore nelle fasi di qualifica. Vedete la differenza rispetto alla ginasta di prima, dove è? Nella difficoltà... Grazie. 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 Grazie.